8 febbraio da otto giorni abbiamo un tempo orribile e io me ne rallegro poiché da quando sono qui non è mai apparso nel cielo un bel giorno senza che qualcosa non me l'abbia guastato o distrutto almeno quando piove nevica e gela e disgela io penso che non si può star peggio in casa che fuori o viceversa e così va bene quando invece la mattina il sole sorge e promette una bella giornata non manco mai di esclamare ecco un bene divino che gli uomini possono rapirsi gli uni agli altri non c'è niente che essi non si rapiscano reciprocamente salute buon nome gioia riposo è il più delle volte per ingenuità ignoranza a ristrettezza di mente e a sentir loro con le migliori intenzioni vorrei talvolta pregarli in ginocchio di non sbranarsi a vicenda con tanto furore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti